Grazie, fratelli, per quel lino magnifico. La maggior parte di questi sia stata scritta da donne. In ogni caso, un filo conduttore comune a queste analisi è che in molte società odierne gli uomini ricevono dei segnali confusi e contrastanti riguardo al loro ruolo e al loro valore all'interno della società. L'autore di Manning Up, Diventare Uomini, ha definito la questione con queste parole. È da sempre una regola quasi universale tra le civiltà che, mentre le ragazze diventavano donne semplicemente raggiungendo la maturità fisica, i ragazzi invece dovevano superare una prova. Essi dovevano dimostrare coraggio, prodezza fisica o padronanza delle abilità richieste. L'obiettivo era dare prova della loro competenza nel saper proteggere le donne e i bambini. Questo era da sempre il loro principale ruolo sociale. Per contro, al giorno d'oggi, con le donne che avanzano in un'economia progredita, le figure del marito e del padre che mantengono la famiglia sono diventate ormai un optional e le qualità caratteriali che gli uomini dovevano possedere per ricoprire il loro ruolo, ossia la forza d'animo, lo stoicismo, il coraggio, la fedeltà, sono ormai di valori obsoleti e anche un po' imbarazzanti. Nel loro zelo di promuovere opportunità per le donne, cose che noi elogiamo, alcune persone finiscono con il denigrare gli uomini e il loro contributo alla società. Sembra che tali individui pensino che la vita sia una competizione tra maschi e femmine, che uno debba dominare sull'altro e che adesso è arrivato il momento delle donne. Qualcuno sostiene che l'importante è fare carriera, mentre invece sposarsi e avere figli sono o dovrebbero essere delle scelte facoltative. Perciò a che servono gli uomini? In troppi film hollywoodiani, nei programmi televisivi e via cavo e perfino negli spot pubblicitari, gli uomini sono ritratti come degli incompetenti, degli immaturi o degli egocentrici. Questo indebolimento culturale della mascolinità sta avendo un effetto dannoso sulla società. Per esempio, negli Stati Uniti, si riporta che oggi le ragazze superano i ragazzi ad ogni livello, dalla scuola elementare fino alla laurea. Alla fine della scuola media, per esempio, solo il 20% dei ragazzi è competente nella scrittura e il 24% competente nella lettura. Nel frattempo, i risultati che i ragazzi hanno ottenuto ai test d'ammissione all'università nel 2011 sono stati i peggiori degli ultimi 40 anni. I ragazzi hanno il 30% in più di probabilità rispetto alle ragazze di abbandonare gli studi durante la scuola secondaria e l'università. Si prevede che prima del 2016 le donne acquisiranno il 60% delle lauree di primo livello, il 63% delle specializzazioni e il 54% dei dottorati. Due terzi degli studenti che seguono un programma di recupero dei debiti scolastici sono ragazzi. Alcuni uomini e giovani uomini hanno preso questi segnali negativi come delle scuse per evitare le responsabilità e non crescere mai veramente. Spiegando la questione con un'osservazione che troppo spesso descrive la realtà dei fatti, un professore universitario ha detto i ragazzi entrano in classe con il cappellino da baseball girato all'indietro e con delle scuse patetiche tipo il programma di scrittura del PC mi ha mangiato i compiti. Nel frattempo le ragazze invece controllano la loro agenda e chiedono lettere di presentazione per entrare alla facoltà di legge. Una critica cinematografica ha espresso un'opinione piuttosto cinica affirmando che quello che ci aspettiamo da un uomo, se siamo fortunate, se scegliamo di avere un compagno, è che egli sia solo quello, un semplice compagno, qualcuno che se ne stia nel suo spazio rispettando anche il fatto che noi ce ne stiamo nel nostro. Fratelli, per noi le cose non possono andare così. Come uomini del sacerdozio abbiamo un ruolo essenziale da ricoprire all'interno della società, a casa e in chiesa, ma dobbiamo essere uomini di cui le donne possano fidarsi, di cui i bambini possano fidarsi e di cui Dio possa fidarsi. All'interno della chiesa e del regno di Dio in questi ultimi giorni non possiamo permetterci di avere dei ragazzi e degli uomini che vanno alla deriva. Non possiamo permetterci dei giovani uomini che manchino di autodisciplina e che vivano solo per divertirsi. Non possiamo permetterci dei giovani adulti che non stiano andando da nessuna parte nella vita, che non abbiano una seria intenzione di metter su famiglie e di dare un reale contributo a questo mondo. Non possiamo permetterci mariti e padri che non riescano a fornire una guida spirituale nelle loro case. Non possiamo permetterci che coloro che detengono ed esercitano il santo sacerdozio secondo l'ordine del figlio di Dio sprechino le loro forze con la pornografia o passino la loro vita nel mondo virtuale del ciberspazio, essendo ironicamente del mondo ma non del mondo. Fratelli, abbiamo del lavoro da fare. Giovani uomini, dovete andare bene a scuola e poi continuare i vostri studi oltre la scuola superiore. Alcuni di voi vorranno intraprendere gli studi universitari o una carriera nel mondo degli affari, nell'agricoltura, nel governo o in altre professioni. Alcuni eccelleranno nell'arte, nella musica o nel mondo dello spettacolo. Altri vorranno imparare un mestiere. Nel corso degli anni ho richiesto l'intervento di molti artigiani affinché lavorassero su progetti di ristrutturazione e di riparazione della mia casa. Ho potuto ammirare l'abilità di questi uomini e la loro propensione al duro lavoro. Tra di loro vi erano carpentieri, elettricisti, idraulici, imbianchini, posatori di piastrelle e di mochette, riparatori di tetti. È essenziale che diventiate esperti. In qualsiasi tipo di vocazione sceglierete di intraprendere, in modo tale da poter provvedere a una famiglia e da poter dare il vostro contributo per migliorare la vostra comunità e il vostro paese. Di recente ho visto un video che mostrava la giornata tipo di un giovane 14enne in India. Si sveglia presto la mattina e fa due lavori che gli occupano molte ore, prima e dopo la scuola, sei giorni e mezzo alla settimana. I suoi guadagni rappresentano una parte sostanziale di ciò che serve per il sostentamento della sua famiglia. Corre a casa dopo il suo secondo lavoro sulla sua vecchia bicicletta e in qualche modo riesce a dedicare alcune ore estremizzite ai compiti, prima di buttarsi a letto sul pavimento tra i suoi fratelli che già dormono, intorno alle 22.30 o alle 23.00. Nonostante io non l'abbia mai incontrato, sono fiero di lui per via della sua diligenza e del suo coraggio. Questo ragazzo sta facendo veramente del suo meglio con le poche risorse e opportunità che ha a disposizione, essendo così una benedizione per la sua famiglia. Non ho alcun dubbio che crescendo questo ragazzo sarà una forza positiva per gli altri. E così a tutti coloro che mi stanno ascoltando, ovunque vi raggiunga questo massaggio, vorrei dire ciò che Geova disse a Giosuè. Sii forte, fatti animo. Rincoratevi e preparatevi al meglio delle vostre possibilità, a prescindere dalle vostre circostanze. A voi che siete già uomini adulti, padri, adulti non sposati, dirigenti, insegnanti familiari, siate dei degni modelli da imitare e aiutate i ragazzi della nuova generazione a diventare degli uomini. Preparatevi a essere buoni mariti e buoni padri. Preparatevi a essere buoni cittadini, attivi nella società. Preparatevi a servire il Signore a cui appartiene il sacerdozio che detenete. Ovunque voi siate, il vostro Padre Celeste si ricorda di voi. Non siete soli. voi avete il sacerdozio e il dono dello Spirito Santo. Se continuerete a lavorare e obbedire ai Suoi comandamenti, ci saranno delle opportunità in serbo per voi in futuro. Di tutti i posti in cui si possa aver bisogno di voi, il vostro quorum del sacerdozio è uno di quelli più importanti. Noi abbiamo bisogno di quorum che siano qualcosa di più di una classe dominicale. Abbiamo bisogno di dirigenti di quorum che siano concentrati a svolgere l'opera del Signore, a sostenere i membri del quorum e le loro famiglie e raggiungere dei risultati positivi nella vita di coloro che sono alla portata. Pensate al lavoro missionario. Giovani uomini, non avete tempo da perdere. È urgente che voi vi prepariate meglio e quanto prima. Non potete aspettare di fare sul serio solo a 17 o 18 anni. I quorum del sacerdozio di Aronne possono aiutare i loro membri a comprendere il giuramento e l'alleanza del sacerdozio e a prepararsi per l'ordinazione ad anziani. Possono aiutarli a comprendere, a essere pronti per le ordinanze del Tempio e per servire delle missioni con successo. I quorum del sacerdozio di Melchisedec possono aiutare i genitori a preparare dei missionari che andranno sul campo o di missione totalmente dediti al lavoro da svolgere. E in ogni ramo e rione questi stessi quorum possono portare avanti un'efficace collaborazione con i missionari a tempo pieno che stanno servendo in quell'area. Un altro lavoro collegato a quest'ultimo e che poggia principalmente sulle spalle del sacerdozio è la chiamata del Salvatore echeggiata dal Presidente Thomas Monson a soccorrere coloro che si sono allontanati dalla Chiesa o che ne sono insoddisfatti per qualche motivo. Abbiamo avuto un successo meraviglioso in questa iniziativa incluso un eccellente lavoro svolto dai giovani uomini. Un quorum del sacerdozio di Aronne del rione spagnolo di Rio Grande ad Albuquerque nel New Mexico si è riunito in consiglio per sapere chi poteva reattivare e poi i ragazzi in gruppo sono andati a visitare ciascuno di questi giovani. Uno ha detto non sapevo che così tante persone volessero che andassi in chiesa con loro perciò ora voglio andare in chiesa. quando i membri del quorum hanno visitato e invitato un giovane uomo a tornare in chiesa gli hanno chiesto di tornarci con loro quando l'avrebbero visitato la prossima volta ed egli lo ha fatto. Non lo stavano solo invitando ad andare in chiesa la settimana seguente lo stavano già rendendo parte del loro quorum. Un'altra responsabilità sacerdotale impegnativa ma stimolante sono la genealogia e il lavoro di tempio. A breve riceverete una lettera dalla prima presidenza che ci offre una visione più alta e ci incita a partecipare a quest'opera. Molti più uomini e ragazzi che sono meno attivi o perfino sconosciuti hanno bisogno di essere preparati alle ordinazioni del sacerdozio. Inoltre i nostri quorum formano una fratellanza di mutuo sostegno. Il presidente Gordon Binkley una volta disse miei cari fratelli meraviglioso sarà quel giorno in cui i quorum del sacerdozio saranno un ancora di forza per ogni suo membro quando ogni uomo che ne fa parte potrà dire con sicurezza sono membro di un quorum del sacerdozio della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Sono pronto ad aiutare i miei fratelli in tutte le loro necessità come sono fiducioso che essi sono pronti a fare lo stesso per me. Lavorando insieme cresceremo spiritualmente quali figli dell'alleanza di Dio. Lavorando insieme potremo affrontare senza imbarazzo e senza timore ogni evento d'avversità che possa soffiare contro di noi sia dalle avversità economiche che sociali o spirituali. Nei momenti di difficoltà economica una principale necessità potrebbe essere il lavoro. Un vecchio opuscolo della Chiesa affermava che un uomo senza lavoro ha una particolare importanza per la Chiesa perché è privato di ciò che gli spetta e gli è sotto processo come lo era Job per la sua integrità. Mentre i giorni diventano settimane poi mesi e perfino anni di avversità la ferita si fa sempre più profonda. La Chiesa non può sperare di salvare un uomo la domenica se durante la settimana assiste non curante alla crucifissione della sua anima. Nell'aprile del 2009 Richard Agley che allora era consigliere nel Vescovato Presidente raccontò la storia di un quorum esemplare che si era mobilitato per assistere a un suo membro che aveva perso il lavoro. Phil Sauto di Centerville nello Utah è l'emblema di ciò che i dirigenti e un quorum del sacerdozio possono realizzare. Phil era membro di un quorum degli anziani e lavorava come meccanico in un'officina della zona. Sfortunatamente l'officina dove lavorava Phil ebbe problemi finanziari e dovette fare a meno di lui. Egli fu devastato dagli eventi. Quando si epe che Phil aveva perso il lavoro il suo Vescovo Leon Olsen e la presidenza del quorum degli anziani considerarono attentamente i modi in cui avrebbero potuto aiutare Phil a rimettersi in piedi. Dopotutto faceva parte del loro quorum e aveva bisogno di aiuto. Conclusero che Phil aveva le capacità per gestire un'attività improprio. Uno dei membri del quorum offrì di mettere a disposizione una vecchia stalla che poteva fungere da officina. Altri membri del quorum avrebbero potuto aiutare a mettere insieme gli attrezzi e le cose necessarie per attrezzare l'officina. Quasi tutti nel quorum avrebbero potuto aiutare almeno a ripulire la vecchia stalla. Ne parlarono con Phil e poi presentarono il piano ai membri del loro quorum. La stalla fu ripulita e messa a posto furono trovati gli attrezzi e tutto fu messo in ordine. Phil South fu un successo e in seguito si trasferì in una sede migliore e permanente. Tutto perché i fratelli del suo quorum offrirono aiuto in un momento di crisi. Naturalmente come è stato ripetuto dai profeti negli anni il lavoro più importante del Signore che saremo mai chiamati a fare sarà svolto entro le pareti della nostra casa. Abbiamo molto da fare per rafforzare il matrimonio all'interno di società che banalizzano sempre più la sua importanza e rifiutano i suoi scopi. Abbiamo molto da fare per insegnare ai nostri figli a pregare e a camminare rettamente dinanzi al Signore. Il nostro compito non è altro che aiutare i nostri figli a sperimentare quel potente mutamento di cuore o conversione verso il Signore di cui si parla così eloquentemente nel libro di Mormon. Insieme alla società di soccorso i quorum del sacerdozio possono insegnare ai genitori per realizzare una tale conversione ed essi possono fornire le benedizioni del sacerdozio alle famiglie con un solo genitore. Fratelli, potete avere successo. Concentratevi su risultati piuttosto che su sembrare indaffarati. Assicuratevi che i vostri sforzi stiano portando frutto altrimenti cambiate ciò che state facendo o il modo in cui lo state facendo. Non accontentatevi di dire beh, ho fatto tutti i passi richiesti ma non è successo niente. Seguite l'esempio di Thomas Monson quando era vescovo e trovate la via. il Signore vi aiuterà forse non sapete bene quello che dovete fare o dire beh, iniziate e basta cominciate ad agire e il Signore vi assicura che una porta utile si aprirà per voi. Cominciate a parlare ed Egli vi promette che non sarete confusi dinanzi agli uomini poiché vi sarà dato nell'ora stessa sì, nel momento stesso ciò che dovrete dire. La Chiesa il mondo e le donne sono alla ricerca di uomini di uomini veri che abbiano delle capacità e dei talenti e che si stiano sforzando di svilupparli uomini che difendano ciò che è giusto che non abbiano paura del sacrificio che siano disposti a lavorare che aiutino gli altri a raggiungere la felicità e la salvezza essi stanno gridando alzatevi o uomini di Dio che Dio ci aiuti a farlo nel nome di Gesù Cristo Amen Grazie a tutti Grazie a tutti